Io sto sudando, mi sento male. Toccherà mica di nuovo a me, tocca a lei parlare, no? Io direi che sto per svenire, quindi parla... Parlo io? Sì, direi. Parlo io. Allora, non c'è troppo, secondo me, da spiegare, perché era un'esterna che era quasi alla fine, non esattamente. Però così mi fa venire l'ansia, ci siamo baciati. Beh, credo fosse chiaro. No, io pensavo anch'io fosse chiaro, no? Era per spiegare come ci siamo arrivati. No, io volevo solo dire, di quello che mi hai detto prima rivolto a me, no? Comunque, insicuro, ok, qua dentro, cioè... No, ma spero che tu ti riferissi a quello. Ci siamo baciati. Sì, no, ho capito, sto cercando di spiegare a lui una cosa. Ok, ok, io ho capito il tuo senso. Sto cercando di mostrarmi a lei in un certo modo, ma per come sono fatto veramente, ok? Il fatto, non capisco questa cosa del poter spegnere le telecamere, cioè... Vuoi che ti risponda io prima? No, no, aspetta, perché secondo me me lo ha. Ci siamo baciati senza la mascheria, un bacio... Ho capito, non pensavo neanche potessi... Non sapevo neanche, sinceramente, potessi fare questa cosa, come mai... Perché nel momento stesso in cui noi non vogliamo mandare in onda nulla che sia... No, assolutamente, però non mi sono mai permesso di chiedere una cosa del genere... Quindi quando lei chiede di chiudere le telecamere, a quel punto lei è libera cittadina, può fare ciò che vuole, non è che... Assolutamente, no, no, Maria, quello che dicevo è che io non avevo mai pensato di poter chiedere una cosa del genere e mi dispiace che l'abbia fatto tu con lui, sinceramente... Grazie a tutti